Tutti in attesa di entrare nella Grotta Giura? Sì, sì. Vedete le barchette piccole là in fondo? Sì, sì. A destra, vedete? Sì, sì. Ecco là, vedete come esce dalla Grotta? Sì. Perché davanti non si vede più poco perché è in mezzo. Queste blu formano un canale per poter accendere. Sì, lo puntano qua. Ah, ah. Per non entrare le parti dentro perché... ...eppure vengono abbondare un po' più. Le orte, sì. Un po' via da qui. Questo è sempre quello di Bosità. Qui siamo davanti alla Grotta Azzurra. Qui nessuna protesta che ci si dà troppa gente, troppa confusione. Abbiamo un po' via da qui qui. No, qui stanno avanti. No, qui stanno avanti. Ah, il lanza lupo. Ecco le panchette che fanno la fila per entrare, guarda. Si fa sbordo dal mezzo grande al mezzo piccolo. Grazie.